God bless them, God bless them e si continua una serie che ho bloccato per 1-2 anni e sono molto emozionato ma poco ci manca perché è un gioco che adoro che adoro parecchio e sono contento perché tornare qui è molto bene siamo nella foresta di Sherwood, abbiamo fatto degli scorsi episodi di tantissimo tempo fa nelle mie due missioni la prima a Lincoln e la seconda a Nottingham e adesso ci troviamo a fare una missione nell'incrocio che inizia da Lincoln una carrozza scontrata da uomini, le mosce di far avanza su questa strada vabbè, dobbiamo distruggere sta caravanna insomma è una caravanna del tutorial un gioco da ragazzi ecco, va bene mi senti io abbiamo questi uomini non è vero, ce ne manca uno stai qua sopra lo sapevo, lo sapevo vabbè scendi qua che è MASH d'accordo bene oh ho detto da avanzare vediamo come funziona questo episodio ancora ok facciamo prima una missione ne voglio parlare alla fine del video voglio prima portare il tutorial e due sono stati catturati poi se facciamo questo abbiamo dei rinforzi attento te sono pronto per due strati dintorni presto vedete, se ci scoprono potrebbero l'hanno fatto? fermo là! dal riparo! hanno gli archi! vabbè c'hanno scoperto ecco qua in guardia perfetto non c'è niente capo avanti se vogliamo farlo ok si parte prendiamo questi qua sopra qua oh sbaglio sembra d'assimo ecco gli altri in teoria non potrebbero ah l'hanno ucciso è per una buona causa vediamo se non riesco a non uccidere uno di meno vabbè con costui possiamo togliere questi massino quindi noi possiamo andare qua no? chiaramente con gunman non... spiegati che sta quel cache no 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 no! per servirvi ma ecco come funziona vabbè comunque qua tu puoi togliere puoi boccare la strada puoi uccidere le persone che stanno qua vabbè i soldi la cosa più importante questo è interessante i soldi con i soldi perfetto Un bel po' di soldi. Un po' scata, ebbè ci sta. Il segreto per avere più companion... Chi mi vuole? Silenzio. Silenzio. Il segreto per avere più companion è uno su uno. Praticamente, per fare... Madonna mia. Robin Hood, per servire. Andate tutti qua, va. Il segreto per avere più companion è praticamente, se riesco a dirlo, di non ucciderlo. Giustamente, quando uno vuoi riunirsi a Robin Hood, deve sapere che non è un assassino spregiudicato, infame, che ammazza e basta. Vieni e battiti. Ebbene dunque, in guardia. Ebbene dunque, in guardia. Sacripante! Vabbè. Non è possibile. Vabbè. Allora, voi più vite risparmiate durante le missioni che si erano di imboscata nel villaggio, nelle città, più risparmiate persone, più gente si andrà con te, perché capisce che non facciamo male. Ad esempio, con questi contattini qui, noi potremmo uccidere delle persone quando sono svenute. Si compisce, si deco un po' di grazia. Se lo si fa, e io lo facevo, avremo una brutta reputazione. Quindi le persone non si uniranno a noi. Invece, se le leghiamo, poi le ristoriamo solamente, quindi rimangono in vita, noi avremo più companion. Si uniranno a noi molte più persone, perché più vite risparmiate, più gente arriverà. Questo dipende sempre dai casi, perché se c'è un assedio non è che puoi risparmiare persone. Se c'è un assedio si deve ammazzare, appunto. Ma abbiamo già fatto questo, andiamo qui, andiamo verso York. Questo piccolo gruppo di soldati senza esperienza accompagna quello che sembra un esattore delle tasse. Ah, vabbè. Cos'è quello? Lasciamo perdere. Che spettacolo. Vieni a batterti codardo! Guardie! Questo è interessante. No, vabbè. Il prossimo! Voi me lo dimenticate. Che bello! Che bello! Ah, sto gioco, se potete, compratelo. Andiamo! Giocateci! Che succede? Di là! Che spettacolo! Come quanta gente ho qui? Eh, c'è stata gente, eh! Andiamo! E non abbiamo tanti companion. C'è... Sbagliato. Tanti... Anneati, eh! Facciamo una pazienza. Allora, io sto anche qua sopra. Sbaglio sempre tasto! Sbaglio sempre tasto! Non ci arrivo, ragazzi. Vabbè, te sì, però... Arrivederci! Sbaglio sempre tasto! Avanti! Da qua ci arrivi? No. Consideralo fatto! Quasi. Avanti! Ah, cazzo! Non pensavo fossi... Fatto! Non abbiamo anneati in questa partita. Solamente qua giù, ma qua giù è troppo. Consideralo fatto! C'è una cosa su. Cosa c'è laggiù? Chi sei? Ebbene! In guardia! Ok. Con calma. C'è altro? No. Ma io non scioglio credo, signori. Il prossimo! Cosa fai? Cosa fai? In guardia! Rimani e consideralo fatto! Avanti! Vabbè! Vabbè! Benga sta mission! È per una buona causa! Vabbè! Mi piace che ho avuto zero compagni! Ma ci sta perché... Vabbè! Un monte solo di persone! Vabbè ci spostavo! Avanti! Bene! Vieni e battiti! Ok! Adesso... Noi possiamo... Fare delle scelte! Vi spiego meglio! Allora... Il gioco è basato ovviamente su questi attacchi! A queste imboscate! A queste con voi! E fino a qua tutto ok! Ma può capitare che ci sono delle missioni particolari come questa di Leicester! Il nipote di Robin è in pericolo! E c'è scritto... 2! Questo significa che noi possiamo fare... Questa missione! Un convoglio ascoltato! Un po' in Nottingham! Adesso! Voglio fare il convoglio ascoltato! Ok! Questi sono di... Un po' in Nottingham! Un po' in Nottingham! Non lo so! Eh questo è un ben... Un ben vingaggio questo! Allora... Questo che voi vedete... Questo che voi vedete... Questo colore di questi uniformi... Significa che queste sono unità ben addestrate! Ah... Dov'hai? Un po' in Nottingham! Ah! È bloccato! Si parte! No! Yuhuu! Vediamo se riprendo... Sì! Vediamo che combinano... Non ti muove! No vabbè... Non ci vuoi che... Ma che è? Si parte! Non ti muove! Il prossimo! Ma che cazzo sto bene! È per una buona causa! Noi prendiamo tutto in prestito! È proprio! È per una buona causa! Questo è interessante! Bene! Ci ambezziamo compagno! Vabbè! Ora! Quindi noi possiamo fare... Che... Sicuramente mancano due turni qui... Questa in duria non dovrebbe finire però... Nel caso... Ci facciamo... Robin... Un po' di Robin... E poi anche questo! Sono pronto! Allora! Se mi prendo questi tre... Bene! Dovrebbe essere giusto! C'è altro? Vedi che quando vuoi! Facciamo una cosa... Nel prossimo episodio... Nel prossimo episodio... Nel prossimo episodio... Noi portiamo... Ehm... William Scarlet... E... Lady Marion! Così... Noi... Avremo... Almeno uno dei due personaggi sicuro! Vediamo come va una cosa! Io intanto salvo! Facciamo serie 1! Così sono apposta! Bene ragazzi! Il video finisce qua! Spervi vedere se vi sia piaciuto! Per caso vi sia piaciuto! Mettete un bel mi piace! Commentate! E noi ci vediamo sul prossimo episodio... Di Robin Hood! The Magic of Shaft!